Oggi ti voglio parlare di una funzione di Notion che ti farà risparmiare un sacco di tempo e un sacco di noia e fastidio perché ti permetterà di automatizzare attività ricorrenti, non dovrai più farle manualmente. Si chiama Notion Automations. Io sono Alberto e ti do il benvenuto in questo nuovo video di ItalianIndie.com, ancora una volta ti insegnerò a lavorare meglio lavorando meno e ancora una volta ti parlerò di Notion che vedo interessa parecchio anche da tutte le richieste di consulenza che riceviamo. Notion Automations è una funzione per gli utenti a pagamento, attenzione, se sei un utente gratuito puoi usare le automazioni presenti nei template e poi rimuovere le automazioni da un template o da un database, ma se vuoi crearle devi avere un account a pagamento e ti dirò che a forza di aggiungere funzionalità avere un account a pagamento su Notion diventa una ottima scelta, sia che tu lavori da solo, sia che tu lavori in gruppo, in team. Andiamo subito a vedere come funzionano le automazioni e anche ho creato un esempio ad hoc. Allora l'esempio è totalmente ininfluente, cioè i dettagli dell'esempio sono ininfluenti. Per usare le automazioni devi andare qui. Le automazioni si trovano solo nei database, non nelle pagine e c'è questo simbolino del fulmine, se tu clicchi si apre il menu delle automazioni che vedi e in questo caso è totalmente vuoto, perché questo è un account gratuito. Adesso accedo all'account a pagamento e vedrai cosa cambia. Ecco qui, ora sono nel account a pagamento, se clicco sul fulmine c'è un sacco di roba in più e ci sono diverse opzioni. Purtroppo questa finestra viene mostrata sempre sul lato destro, quindi la trovi tutta sbilanciata da questa parte. Allora spostiamo la mia faccia magari così è più visibile. Ogni automazione è di tipo se fai questo, se succede questo fai quello e ci sono diversi questo, quindi diversi trigger, diversi inneschi per le nostre automazioni, ma prima degli inneschi quello che tu puoi fare è aggiungere il nome dell'automazione. Allora per farti un esempio sensato e non fine a se stesso, chiamiamolo data completamento, voglio creare un'automazione che imposta la data di completamento di un task. Quindi adesso vogliamo crearla nel database dei task. Allora creiamo la nostra proprietà, è una proprietà di tipo date, ecco, e la chiamiamo completata. Ok? Poi task può essere maschile o femminile, lasciamo completata. E qui mettiamo appunto come nome dell'automazione completamento task. È importante nominare le automazioni perché quando cominci ad averne tante poi non capisci più niente. Vediamo subito che puoi applicare questa automazione alle pagine dentro task oppure a una qualsiasi view all'interno di questo database. Qui c'è solo una view, buona a sapersi comunque in futuro, eventualmente se hai altre view puoi creare delle automazioni solo per quelle view e non per tutte le pagine. Al momento lo applichiamo a tutte le pagine. Poi è il momento di impostare il trigger, quindi l'innesco, la regola che fa scattare questa automazione. Allora clicchiamo la regola e vedi che ci sono diversi eventi che possono innescare un'automazione. Quindi quando una pagina viene aggiunta, quando una qualsiasi proprietà viene modificata e poi ci sono eventi collegati alle singole proprietà e questi eventi dipendono dai tipi di proprietà. Quindi per esempio nel caso della proprietà name, che è quella obbligatoria di ogni elemento di un database, puoi far scattare la regola, l'automazione, in base a cosa viene inserito dentro il nome. Quindi se è impostato ad un valore preciso, se non è impostato ad un valore preciso, se contiene certe lettere, comincia con certe lettere oppure, questi sono spesso più utili, tutte le volte che il nome viene modificato o tutte le volte che il nome viene cancellato. Questi sono più utili perché raramente avrai un'automazione che si basa su valori specifici, ma mai dire mai perché le casistiche sono infinite. Poi invece abbiamo anche, vedi, la data come innesco e non si può impostare nulla qui, abbiamo una relazione con i progetti e qui di nuovo possiamo avere diversi filtri sostanzialmente che determinano se questa regola scatta e infine abbiamo status. Allora noi vogliamo impostare la data di completamento in base allo status, perché vogliamo che la data di completamento sia impostata in base al momento in cui il task viene messo come completato. Quindi clicco su status e vedi che posso scegliere di innescare questa automazione in base a uno qualsiasi degli status. Quindi posso selezionare tutti oppure nessuno, oppure ne seleziono uno in particolare e sarà fatto. Quindi quando il task sarà fatto, sarà completato, allora imposto la data completata. Clicco su done e ho impostato la regola. Ok? Poi una volta impostata la regola devo impostare l'azione, action, e qui ci sono diverse azioni che di nuovo dipendono dalle proprietà oppure ce ne sono alcune generiche. Quelle generiche consistono in aggiungere una pagina ad un qualsiasi database, perdonami, oppure, andiamo a modificare, oppure modificare una pagina in un database, oppure inviare una notifica a, vedi, persone specifiche o ad una proprietà persona, oppure inviare notifiche a Slack, perché Notion ha un'integrazione nativa con Slack. Se usi purtroppo WhatsApp oppure Discord non puoi fare direttamente la notifica dalle automazioni di Notion. E queste sono le opzioni generali. Sto usando questo esempio per farti vedere in generale cosa puoi fare anche nelle automazioni. Oppure puoi modificare le proprietà all'interno di questo database. E anche qui, vedi, a seconda del tipo di proprietà cambiano le azioni. Ok? Quindi, tornando indietro, qui quando viene impostato lo status to complete, quindi quando viene completato il task, allora io voglio cambiare la data e quindi clicco su questa proprietà completata e vedi che posso scegliere una data precisa che di solito ha zero senso, perché che senso ha che imposto sulla data di oggi o di ieri o tra una settimana. Oppure posso scegliere l'ora in cui è stata innescata questa automazione, oppure la data. A me interessa solamente la data e quindi clicco su data. Tra l'altro voglio farti notare che questi valori, queste azioni, questi trigger eccetera cambiano abbastanza spesso, perché se tu guardi dei video anche di pochi mesi fa non c'era date triggered e time triggered come opzioni per impostare le date, ma c'era now e un altro valore, now e today se non sbaglio. Quindi questa è una nuova funzionalità, quindi potrebbe cambiare in futuro. In ogni caso abbiamo visto che qui c'è la nostra data completata impostata su date triggered, quindi sul momento in cui si clicca su complete, clicco su create, l'automazione è creata, è inserita, vedi qui nella lista delle automazioni, ok? Allora se io vado qui ho questa attività che si chiama creare home page, la metto su fatto e poi l'automazione dovrebbe scattare e impostare la data su completata. Vedi che ci sono venuti un paio di secondi, le automazioni sono così, hanno un po' di ritardo, ma ho impostato la data di completamento. Capisci che in questo modo tu puoi impostare appunto un sacco di attività in automatico, a seconda insomma del tuo caso d'uso, e i casi d'uso sono infiniti, ma ti voglio dare una panoramica. Eventualmente poi anche, rimanendo in questa casistica della gestione dei progetti, che insomma è una casistica abbastanza tipica, un altro uso pratico potrebbe essere assegnare ad una persona un task in base al suo status. Quindi, per esempio, qui ho messo tre status generici che sono da fare in corso e fatto. Mettiamo che ci sia anche uno stato che si chiama revisionare, ok? Me lo sono inventato totalmente, rimaniamo sul generico, ma spesso c'è uno status revisionare. Allora voglio che quando un'attività passa a status revisionare, allora venga assegnata ad una specifica persona. Quindi aggiungiamo una attività, una, perdona, proprietà di tipo persona. Qui come persone ce ne sono tre, quindi ce ne sono abbastanza. Torniamo a mettere in corso, ecco, supponiamo che stiamo lavorando su installare WooCommerce sul nostro progetto di creare un e-commerce, ok? E vogliamo che una volta installato WooCommerce una terza persona all'interno del team controlli che sia tutto a posto. Quindi quando clicco su revisionare voglio che questa attività venga assegnata a quella persona. Come si fa? Beh, allora si clicca sul nostro fulmine e poi si clicca su new automation e poi lasciamo sempre per tutte le pagine, clicchiamo su add trigger, ok? E qui aggiungiamo che quando lo status diventa, togliamoli tutti, diventa solo revisionare, ok? Andiamo su done, vedi? Quando lo stato si è impostato a revisionare, allora la persona sarà Samuele, ok? Sì, puoi premere done, qui piccolino in alto a destra. Clicchi su create, qui abbiamo una seconda, vedi? Automazione. Allora a questo punto io clicco qui, metto revisionare e tra un istante la persona qui dovrebbe diventare Samuele, ecco qua. E quindi Samuele riceverà una notifica perché gli è stata assegnata questa, questo task. E questo sono due esempi molto semplici. Hai visto che nelle varie automazioni c'è questa piccolissima scrittina qui che ti dice, che ti permette di far scattare l'automazione in base a una o tutte le regole. Quindi eventualmente potrei mettere più regole, quindi potrei dire che a Samuele l'attività viene assegnata anche quando il, per esempio, che so, il progetto viene cambiato o la data completata viene assegnata. E potrei mettere any e quindi questa automazione scatta sia quando lo status viene messo su revisionare, sia quando la data completata viene modificata. Ok? Questo per quanto riguarda le regole. Poi ogni automazione può essere attivata o disattivata, questo è molto utile perché metti che ad un certo punto vuoi disattivarla perché non ti serve più per un certo periodo, una persona non lavora più con te quindi non vuoi più assegnargli le attività ma non vuoi cambiare l'automazione. Insomma questo è molto utile e poi chiaramente anche cancellare le automazioni. Ora poi voglio farti vedere un esempio molto più complesso ma anche molto utile. Una cosa che succede spesso è che nei progetti vogliamo aggiungere dei task, sempre una serie di task predefiniti. Quindi quando crei un nuovo progetto di creazione siti web allora devi comprare il dominio, installare wordpress, installare i plugin eccetera per esempio. E questo si può fare per esempio duplicando un progetto oppure creando un template con dentro un database eccetera eccetera. Ma grazie alle automazioni questo può essere fatto in maniera molto semplice. Allora questo lo facciamo nel database progetti ok. Andiamo sempre nella nostra nel nostro menu delle automazioni che però è quello dei database progetti. Supponiamo appunto che questi siano progetti di web design. Allora clicco qui e faccio task default chiamiamolo così e lo facciamo per tutte le pagine in progetti e quindi come trigger uso che quando viene aggiunta una nuova pagina quindi quando viene creato un nuovo progetto in sostanza quindi questo è il mio trigger a questa pagina che è un progetto appunto devo aggiungere diverse diversi task. Quindi aggiungo un'altra pagina ad uno specifico database a quale database? Al database task. Questa è la impostazione tipica di un project management in Notion ovvero un database di progetti in relazione con un database di task. Quindi aggiungo un task e lo chiamo per esempio acquistare dominio ok. Intanto poi modifico una proprietà perché questa deve essere in relazione con i progetti. Quindi qui seleziono il la pagina che ha triggerato l'automazione. Questo è un po' inception ovvero tu quando crei un task all'interno del nuovo progetto vuoi che il task sia in relazione col progetto. Quindi clicchi qui e con questa chiamolo campo speciale è un campo un campo che si riferisce a qualcosa che stai facendo dentro questa automazione e in particolare la pagina che ha triggerato l'automazione. La pagina che ha triggerato l'automazione che ha innescato l'automazione è il progetto che stai creando. Quindi come progetto lo metto il task in relazione col progetto che sto creando e poi come status metto lo status da fare. Eventualmente potrei anche assegnarlo ad una persona. A quel punto però voglio aggiungere un altro task e quindi faccio la stessa cosa e vedi che posso duplicare questo task e lo metto sempre in relazione ma questo task si chiamerà per esempio installare WordPress e le altre attività sono le stesse o meglio le altre azioni sono le stesse. Poi duplico di nuovo un'altra volta questo e dopo aver installato WordPress installo anche i plugin. Ok? Così questa automazione purtroppo è un po' ostica da scrollare ma per il momento il menu è fatto così contiene tre attività quindi aggiunge tre task al nuovo progetto e vedi che è riassunta in questo modo quando si aggiunge una nuova pagina si creano tre cose e tra l'altro è anche spiegato in quel riquadro nero che compare qui sopra. Allora cosa succede? Adesso quando creo un nuovo progetto dovrebbe fare tutti i task in una volta sola. Quindi dovremmo vedere il progetto qui e la lista dei task qui in questa colonna con la relazione opportunamente creata. Quindi clicco su new e il progetto lo chiamo sito web x ok ed ecco qua sono comparsi i task. Quindi abbiamo il nostro nuovo progetto con i suoi task e questi task giustamente sono stati inseriti qua e sono già in relazione col progetto e chiaramente tu potresti impostare una lista lunghissima di task e la prima volta è un po tedioso le altre volte risparmi minuti o molti minuti a seconda di quanti task sono per ogni nuovo progetto che crei. Poi chiaramente si può andare più sul sofisticato e per esempio creare una nuova view, una view per ogni tipo di progetto quindi una view per i progetti di creazione siti, una view per i progetti di creazione logo e poi fai un'automazione per i progetti dei siti, un'automazione per i progetti del logo eccetera. Chiaramente come dicono gli americani sky is the limit perché Notion è molto modulare e molto adattabile e quindi anche le automazioni sono molto adattabili. Trovi il template con esattamente quello che hai visto in questo video nel link in descrizione. Se hai bisogno di impostare Notion per il tuo lavoro di freelance, per la tua vita personale, per la tua agenzia, per il tuo team sappi che posso aiutarti con le nostre consulenze clicca il link in descrizione e ovviamente se ti è interessato questo video, se ti è piaciuto condividilo, clicca mi piace, clicca iscriviti, insomma tutta la trafila che conosci molto bene. Ci vediamo al prossimo video, ciao!